Grazie per averci qui, questo è il posto più meraviglioso per dimostrare i film. Sono molto felice di essere in Lucarno. Assistente e segretario generale delle Nazioni Unite, buonasera e benvenuta a Gillian Traves. Il film racconta la storia dei rifugiati in modo che nessun altro si può. Il direttore Bassel Gandour, benvenuti a Lucarno. Grazie Bassel. Gaspard Noé, buongiorno, benvenuti. Preparatevi un penex e buona chansola. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.